amici di atti sport 24 bentornati in nuova puntata di due metri la palla noto vista da vicino torniamo oggi dopo un po di tempo ad occuparci delle vicende della compagine maschile della comunotore coaro e per farlo è con noi il marcatore del centro della compagine lariana pietro bini ciao pietro benvenuto grazie di aver accettato il nostro invito grazie a te ciao a tutti sicuramente un piacere essere qui con te a parlare della comunoto maschile e io inizio la nostra chiacchierata partendo dall'ultima uscita ufficiale la comunotore coaro torna alla vittoria dopo il k.o. nel derby con la brescia waterpolo supera 12 a 10 la presidente bologna in un match nel quale c'è stata forse qualche sofferenza di troppo ti chiedo come avete archiviato la vittoria con i bolognesi diciamo che è stata una partita che è iniziata in una maniera ed è finita in un'altra perché eravamo in vantaggio dopo più o meno un tempo e mezzo con quattro gol di scarto eravamo più o meno su sei a due e poi ci siamo ritrovati quasi ad inseguire anche a rimanere anche sotto di una rete a quattro minuti dal termine della partita e quindi proprio è stata una partita che ce la siamo tirata fino alla fine giocata gol a gol con una squadra che non ha mai mollato ed è sicuramente rimasta in partita fino all'ultimo nonostante appunto l'inizio un po' un po' fiacco della president bologna noi abbiamo provato ad archivare la partita sicuramente in un modo positivo perché abbiamo comunque portato a casa tre punti nonostante appunto la prestazione sia andata a calare abbastanza drasticamente nel finale e però comunque diciamo che c'è soddisfazione nel nostro spogliatoio siamo tutti comunque contenti dei tre punti perché all'andata è finita in un pareggio quindi era sicuramente una partita che sentivamo da entrambe le parti. Quali sono a tuo avviso le chiavi su cui avete costruito il vostro successo? Secondo me una chiave principale è il gruppo direi io sono un nuovo innesto di quest'anno sono arrivato appunto a settembre e direi che ho trovato fin da subito sia nei compagni di squadra che nello staff un grandissimo affiatamento e direi anche un ottimo gruppo quasi fossimo una famiglia quindi sicuramente questo è una cosa che ci portiamo in acqua tutte le partite e questi secondo me sono i nostri punti di forza e in più secondo me anche un allenamento che secondo me è sopra la media dal punto di vista fisico perché devo ammettere che gli allenamenti sono veramente duri del nostro allenatore che è scuola serba e quindi secondo me queste sono le nostre chiavi principali che cerchiamo di ripartire sempre al massimo e siamo molto uniti nell'intento entriamo tutti in acqua con la stessa testa e la stessa voglia di fare bene. Hai citato il tuo tecnico mister Zimonic il condottiero della Comunoto ti chiedo cosa vi ha detto alla ripresa degli allenamenti? Beh diciamo che alla ripresa degli allenamenti cioè come al solito dopo sia una vittoria oppure una buona prestazione di squadra ci fa sempre i complimenti ma poi li affianca ad un'analisi tecnica video che purtroppo questa settimana non ci è potuto stare per una per un problema tecnico ma solitamente ogni lunedì facciamo una visione tecnico un'analisi tattica della partita per rivedere appunto i nostri errori dove possiamo migliorare e quali sono appunto stati i punti di svolta della partita Hai parlato di miglioramenti questo è un gruppo giovane è un gruppo che è cresciuto esponenzialmente nel corso dell'annata perché in partenza non si puntava a lottare per i playoff e credo che i margini di crescita siano ancora tanti secondo te quali sono gli aspetti del gioco su cui questa squadra può e deve ancora migliorare? Sicuramente come hai detto siamo un gruppo giovane quindi pecchiamo un po' di in esperienza in certe situazioni infatti sicuramente la partita di sabato non è un esempio perché appunto ce la siamo quasi lasciata a sfilare dalle mani perché non siamo stati lucidi in certe situazioni quindi sicuramente l'esperienza sarà un dato che acquisiremo nel tempo e che però cerchiamo appunto di sopperire con un po' di spavalderia giovanile che c'è nei nostri componenti perché comunque l'età media è abbastanza bassa nonostante ci sia qualche senatore che devo dire cerca sempre di mantenere la tranquillità in acqua soprattutto a noi giovani di trasmettercela e anche sicurezza in alcune situazioni quindi diciamo che questi sono i punti di forza come un nuoto e dove dobbiamo migliorare prossimo turno match impegnativo vi attende l'incrocio contro la Reale Mutu a Torino 81 che partita ci aspettiamo? Sicuramente loro sono una squadra attrezzata per i playoff per salire hanno comunque avuto degli innesti dalla 1 rispetto all'anno scorso quindi sicuramente sarà una partita che noi proveremo a tenere a tenere duro fino alla fine proveremo anche nel caso a strappare qualche punto al Torino quindi sicuramente noi entreremo tranquilli di testa perché non abbiamo nulla da perdere da questo punto di vista e quindi cercheremo di dare il massimo cercando di appunto trarre il meglio dalla nostra prestazione. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta una partita importante soprattutto per voi i vostri avversari con il successo sulla Brescia Water Polo hanno praticamente blindato il secondo posto e sono quasi sicuri del vantaggio del fattore campo nel primo turno di playoff. Voi dovete invece raccogliere più punti possibili per uscire vincitori o almeno secondi in questo torneo a quattro che mette in palio gli ultimi due posti per andare agli spareggi di promozione. Quali saranno le armi che la Comunuto può sfruttare per provare a mettere in difficoltà la forte compagine piemontese? Sicuramente noi rispetto a loro abbiamo molti meno chili di massa quindi noi la punteremo sicuramente su un atteggiamento dinamico e sul nuoto e cercheremo appunto di non restare mai fermi e di cercare di bloccare le loro individualità giocando di squadra e ripartendo sempre su ogni pallone per andare a cercare di conquistarci qualcosa di importante in attacco. Va bene siamo così al termine della nostra chiacchierata ringrazio Pietro Bini per essere intervenuto do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Pietro grazie mille. Grazie mille ciao a tutti.